Un tavolo tecnico alla presenza dei maggiori rappresentanti regionali sul tema del dragaggio. In realtà si è trattato di una concertazione su studi già svolti e procedimenti burocratici portati a termino quasi. Resta infatti solo lo svolgimento delle rilevazioni batimetriche per avere l'esatta contezza della situazione dei fondali. Diciamo che il porto, nonostante la situazione di difficoltà, ha continuato regolarmente a lavorare. La Galatea è entrata sempre e per rendersi conto delle problematiche che aveva siamo andati personalmente insieme al pilota a bordo per parlare anche con il comandante per uno scambio di esperienze abbiamo visto che la nave può tranquillamente entrare ovviamente con carico ridotto, questo è evidente. Così come possono regolarmente entrare e uscire, seppur facendo un po' di manovre normalmente non usuali, i pescherecci. Contiamo quindi con i rilevi batimetrici che sono chiaramente preso posto per poter fare un dragaggio mirato e l'inizio dei lavori di dragaggio il porto possa tornare, non dico almeno quella parte del porto, non dico la normalità ma quasi. Il dragaggio prenderà il via la prossima settimana, due mesi, il tempo stimato per la conclusione dei lavori e il ripristino della viabilità portuale. Con 25.000 metri cubi si dovrebbe riuscire ad avere anche un respiro più ampio nel tempo. Tassello fondamentale della questione insabbiamento è e resta quello della presenza della diga foranea che oggi vede sempre più prossimo il suo abbattimento. Una costruzione concepita dapprima per la sicurezza dei mezzi in ingresso e ora diventata un ostacolo per la nuova conformazione portuale. Oggi naturalmente siccome alla luce di tante altre situazioni si può avere anche un'idea diversa o quantomeno uno sguardo diverso sullo scenario, molto probabilmente ci sono alcune situazioni che vanno in un certo senso modificate, cambiate o quantomeno riadattate a quelle che sono le situazioni di oggi. Ma questo avviene in tutte le fasi della vita, in tutte quelle che sono le questioni.